Ecco il mio outfit di oggi, pantaloni a zampa di elefante e un maglioncino verde, con la borsettina verde. Grazie per la visione! 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 ha questi bottoni sul davanti che funzionano tutti sono veri è una simile magliettina però lunga davanti a tutti questi bottoni bianchi questa ricciatura molto carina il vestito non è lunghissimo perché è della sezione petite di Shea e poi per finire questo qua me l'hanno dato in omaggio perché è rovinato è un vestito diciamo da sera nero con tutti questi fili argentati che si intravedono nella trama sembra pieno di brillantini ma in realtà è solo un filo argento che ricopre tutto è stupendo è leggerissimo dentro è morbidissimo anche fuori è morbido non è quei tessuti ruvidi così questo qua mi sembra che è una L se non sbaglio però se mi va largo io lo stringo perché tanto mi piace un sacco cucire quindi non c'è problema ha le maniche lunghe ma va benissimo per l'estate secondo me anche perché è proprio leggero non è lunghissimo scende giù dritto e poi la particolarità è il dietro è scollatissimo dietro e ha questi due questi due fili diciamo questi due cordini così argento che si dovrebbero intrecciare sul dietro però come ho detto è rotto un gancetto semplicemente quindi io lo andrò a ricucire e lo sistemerò e se c'è da stringere lo stringerò ma è veramente a me piace tantissimo questo vestito qua per andare fuori a mangiare per andare a fare il appetitivo in un posto un po' diciamo chic a me piace tantissimo adesso poi lo aggiusterò poi un giorno che lo utilizzo che lo indosso ve lo faccio vedere magari o lo metto su tiktok non lo so e questo qua penso che sia stupendo in tutto tre vestiti 15 euro più questo che è stato regalato quindi viene meno di 4 euro vestito poi da un'altra parte della fiera c'erano dei banchetti di artigianato ce ne erano pochissimi un po' mi è dispiaciuto perché io da artigiana vorrei vedere tante cose artigianali però ho trovato questo banchetto che aveva un sacco di cose fantastiche tutte realizzate a mano ho preso questo qua per mia mamma gli ho lasciato la confezione a regalo è un orsetto non so se si vede un orsetto tutto decorato con brillantini ed è appoggiato sopra una saponetta che ha la profumazione rosa vaniglia una cosa così molto dolce buono ovviamente la saponetta è così da da bellezza anche la saponetta non so penso che sia fatta a mano perché è molto rustica diciamo ha questo nastro che si una specie di fiocco sopra e c'è questo ersetto incollato dietro c'è anche il bigliettino non so se volete andarlo a cercare non so se hanno facebook instagram così la diciamo chi l'ha fatto si chiama idee in fiore creazioni fatte a mano è troppo carino aveva tantissime altre cose però a mia mamma piace tanto rosa e quindi gli ho preso questo questo orsetto qua con questa saponetta rosa buonissimo un odore incredibile e questo è l'ultimo articolo che ho preso il mio video finisce qui grazie mille per avermi guardato se volete lasciatemi un like un commento iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti ciao ciao